Buongiorno da FTO Online, momento delicato per la borsa, abbiamo infatti il Fuzzimib in questo momento leggermente negativo dopo che in avvio i prezzi hanno disegnato un nuovo massimo, questo è il grafico ad elementi giornalieri, la candela di oggi vedete ha disegnato appunto un massimo superiore a quello di ieri, poi ha avviato una flessione, se calcoliamo però i ritracciamenti della singola seduta di ieri, ci accorgiamo che fino a che saremo di sopra dei 22.500 punti, che è il 50% di retracement della candela di ieri appunto. Non ci saranno rischi per la tenuta dell'up trend, è però possibile che fino a quei livelli, fino a 22.500 i prezzi scendano, indicazioni in questo senso a di sotto di 22.650. La situazione è incerta anche per quello che riguarda il future, ovviamente questo è il grafico intraday, orario del future Fuzzimib, vedete i prezzi stanno cercando sia nella parte del terminale sui teieri che in quella iniziale di oggi, di superare la linea mediana del canale crescente che parte dai minimi di dicembre, ma per il momento non ci sono riusciti e anche qui un return move a toccare dall'alto i massimi di area 22.4 appare probabile, quindi nel breve termine potrebbe esserci una fase di debolezza prima che i prezzi riprendano a salire. Non mi aspetterei una vera e propria inversione di tendenza. Ora, del tutto simile alla situazione per il DAX, esattamente al centro della candela di ieri, questo è il grafico a elementi orari, scusate non voglio dire esattamente al centro della prima candela oraria di questa mattina, quindi c'è stata un'accelerazione rialzista, poi i prezzi sono stabilizzati in una zona neutrale in attesa di capire che cosa fare. Il segnale di rottura dei massimi di area 13.900 è sicuramente positivo, manca però adesso un'accelerazione, quindi potrebbe esserci anche qui un return move a toccare dall'alto la ex area di resistenza, per poi ripartire con maggiore decisione al rialzo. Molto bene invece la borsa americana che andremo a guardare con maggiore dettaglio. Il Dow Jones ieri ha superato il lato alto di questa figura di forma rettangolare, anche se ha una leggera inclinazione positiva si può sempre parlare di rettangolo e superando questa resistenza, questa linea superiore del rettangolo ha inviato un bel segnale di forza che potrebbe durare ancora per un po' di tempo. Vi ricordo che dopo una fase laterale come questa parte un movimento che non solo è proporzionale come ampiezza alla fase laterale stessa, ma è anche proporzionale in termini di durata alla durata della compressione. Quindi qui siamo stati per diverse settimane in laterale, è possibile che adesso ci sia una finestra temporale abbastanza ampia di rialzo dopo che l'uptrend è ripreso. Di cosa ci occupiamo oggi? Il video che andremo a vedere in dettaglio su Patreon, quindi se volete vedere la versione completa del video dovete accedere a Patreon, il link ve lo metto in descrizione, sarà relativo ai titoli che questa mattina performano meglio sul mercato italiano, più o meno questa è la lista delle performance in ordine decrescente fino a pochi minuti fa e ci concentreremo su Pirelli, Poste, Prismian, Tenaris e Fineco. Daremo poi un'occhiata alla situazione della borsa americana in particolare, insieme adesso invece volevo farvi notare come si stia aprendo in modo netto lo spread tra i titoli di Stato americano a due anni, che sono questa curva nera e quelli a 10 anni che sono la curva rossa. Se andiamo a calcolare la retta di regressione a partire dai minimi di quest'estate, vedete quella relativa al 10 anni è crescente, assolutamente orizzontale invece quella relativa ai due anni. Quindi questa decisa apertura dello spread ci dice che ci sono aspettative di un'inflazione in crescita nel medio e lungo termine, attenzione perché l'inflazione in crescita significa inizialmente che le motivazioni che la portano a crescere inizialmente saranno un'accelerazione della ripresa economica, quindi i mercati scommettono su un aumento dell'attività economica, del resto i dati USA di recente uscita più o meno vanno in quella direzione, nel medio termine però i mercati dovranno poi fare i conti con una politica monetaria probabilmente più stretta, meno accomodante e quindi potrebbero esserci repercussioni anche sull'azionario. Per il momento però diciamo che siamo ancora in quella fase in cui l'apertura dello spread può essere considerato un elemento positivo per l'economia e quindi anche per la borsa. Ovviamente in una situazione di questo tipo con tassi in crescita i settori come ad esempio il finanziario e le banche potrebbero essere avvantaggiati e quindi magari sono quelli sui quali puntare maggiormente l'attenzione. Vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo che per tutto quello che riguarda gli altri approfondimenti li trovate nel video che verrà caricato a breve su Patreon e vi auguro buona giornata, vi do appuntamento a domani con il nostro consueto commento giornaliero.